Le assemblee cittadine sono uno strumento che si occupa di rafforzare la democrazia, in particolare la democrazia deliberativa. Quindi sono uno strumento che va ad aggiungersi a quella che è la democrazia rappresentativa a cui in Italia siamo più abituati. In particolare all'interno di un'assemblea cittadina viene sorteggiato un insieme di partecipanti, nel caso di Bologna un centinaio di partecipanti, secondo un principio di rappresentatività, in modo che siano rappresentativi della popolazione brutale della città, che poi verranno informati e assisteranno a degli incontri con degli esperti sulla questione della crisi climatica, in modo che poi possano deliberare su delle proposte per far sì che Bologna riesca a raggiungere la neutralità climatica nel 2030.